Pareggiotto, pareggiotto, 1-1 tra Lecce e Cagliari Partita che sostanzialmente non ci lascia tantissimo, non ci lascia soprattutto tantissime soddisfazioni Andiamo con ordine però È tutto sommato un pareggio che per quello che si è visto in campo ci sta Perché se il primo tempo è stato quasi tutto a favore del Lecce Nel secondo tempo siamo stati bravi noi a prendere insomma le redi del campo E trovare il gol sempre da situazione di palla inattiva così come l'hanno trovato loro L'hanno trovato da calcio d'angolo, l'hanno trovato da calcio di punizione con Oristanio Che segna il suo secondo gol in stagione Ed è sostanzialmente il migliore in campo a mio modo di vedere del Cagliari Perché è stato l'unico calciatore che insieme a Nandez si sono praticamente resi pericolosi Con alcune giocate singolari Poi sia chiaro, sufficiente secondo me anche le prestazioni di Petagna e di Augello Petagna perché è stato bravo nella difesa del pallone in alcune circostanze Contro due centrali molto tosti Ha provato anche ogni tanto a guardare insomma verso la porta avversaria Ed è raro vedere Petagna in queste situazioni Però comunque il gol non è ancora arrivato Discorso analogo poi per quanto riguarda Augello Che anche lui secondo me merita una sufficienza Perché tutto sommato si è trovato davanti un cliente non facile Come Oden E anche Jean-André comunque da quella parte non sono semplici da contenere Lui l'ha fatto in maniera igreggia E si è fatto trovare anche spesso in fase offensiva Con qualche cross specialmente in un'occasione del primo tempo Dove forse lì tra Petagna e Ristanio si sono un po' ostacolati Però ragazzi adesso pareggio Un punto importante contro una squadra diretta concorrente Ci siamo levati dalla zona retrocessione Almeno per il momento Visto che devono ancora giocare mi sembra Devono ancora giocare altre squadre Comunque per il momento ci siamo levati da quella zona Ma andiamo a vedere le ultime partite del Cagliari Cioè da quanto tempo non vinciamo Da quanto tempo non si vince Cioè noi possiamo essere soddisfatti di due punti in tre partite Con Verona, Lecce ed Empoli Io rispondo per voi e vi dico di no Perché non si può essere soddisfatti di questo rendimento Cioè queste tre partite per il Cagliari erano un'occasione E da occasione Buona È diventato praticamente un incubo Perché tu non puoi fare veramente due punti in tre partite contro queste squadre Se vuoi salvarti Tranquillamente Poi Se vogliamo farci venire un infarto anche questa stagione va bene Però Rispetto Se vogliamo fare questo Oppure se vogliamo retrocedere Questi sono i rendimenti Questo è il rendimento Insomma Però Non penso che da parte di nessuno ci sia questa voglia E Resta il fatto però che non si può andare avanti così Cioè io Oggi Dopo il gol dell'1-1 Ho detto Prendi la palla Che andiamo a vincerla Non ho nemmeno esultato al gol dell'1-1 Sinceramente Non me la sentivo di esultare Proprio perché un pareggio oggi Sì È un pareggio che tutto sommato ti muove la classifica Fa bene al morale Dopo quella figuraccia che hai fatto a Milano Ma Non ti cambia nulla A livello di classifica Nel complesso Perché se tu oggi facevi tre punti Potevi dare una svolta Ma non l'hai fatto Cioè Un punto Sì Ripeto È un pareggio Chiamiamolo di prestigio Anche se è un po' Amplificata la cosa Contro il Lecce Però non ti basta Non ti basta Cioè Se tu oggi perdevi O pareggiavi Quello che cambiava era il morale Ovviamente Però A livello di classifica Non ti cambia tantissimo Io penso Che oggi bisognava andare a Lecce per vincere E il Cagliari tutto sommato lo ha fatto Però Poi per come si è messa la partita Era importante pareggiarla E poi Ovviamente Con l'inerzia che abbiamo avuto Per quei Cinque minuti Dopo il gol Potevamo magari trovare anche Un ipotetico Uno a due Anche se C'è da spezzare una lancia Anche a favore Ovviamente della squadra Cioè che Il Cagliari oggi Non aveva praticamente Dei ricambi E Penso che non li avremo per un po' Perché Ahimè L'infortunio Di Di Shomurodov Quello Vabbè Se ne riparlerà Tra un paio di settimane Stesso discorso per quanto riguarda la Padula Pavoletti oggi era in panchina Ma Era Praticamente solo lì per la presenza E In attacco rimangono solamente E l'Uvumbe partita in Coppa d'Africa Ci rimangono solamente Pietania E Oristanio Oggi c'erano solo loro in attacco Con magari L'inserimento anche di Mancosu Se vogliamo inserirlo Tra gli attaccanti Ma non è un attaccante Mancosu C'era anche lui C'era Pereiro Che Ormai È Sulla via Della Dio E finalmente Mi verrebbe da dire Perché Finalmente Sembrerebbe Direzione Ternana A titolo definitivo Finalmente Ragazzi Ci liberiamo di Gaston Pereiro Forse farò un video riguardo Forse no E Ma tutto sommato Cagliari oggi Non aveva Non aveva dei sostituti Che Gli avrebbero permesso Insomma Di giocarsi Magari Qualcosa a livello offensivo Cioè ripeto Le uniche scelte offensive Erano Pavoletti Mezzo rotto Mancosu Fuori forma E Pereiro Sulla via Della Dio Ranieri infatti Ha aspettato Praticamente Fino all'ultimo Con i cambi Ha inserito De Iola Ha inserito Di Pardo E mi sembra che basta Non ha messo Neanche nessun altro Io personalmente Me la sarei giocata Forse con Azzi E con l'inserimento Di Pavoletti Nel finale Pavoletti Adesso non sappiamo Quanti minuti avesse Però 5 minuti Secondo me Li avrebbe potuti fare Azzi Lì a sinistra Ti avrebbe potuto dare Una Un'opzione in più Per magari Sviluppare un po' più Di azioni offensive Invece con Di Pardo Che ha completamente Annullato Qualsiasi tipo di Propensione Insomma All'attacco Perché tu hai tolto Oristanio Che era spompato Però è il senso Di Pardo Che praticamente È un calciatore Che non ti dà Quella spinta Ok Anche se tutto sommato Non è un terzino Di Pardo ad oggi Non so Non so come Concepirlo Se è un terzino Un esterno Un centrocampista Valutatelo voi Niente Quindi Riepilogando Pareggio Discreto Pareggio Che fa bene Che ci fa Insomma Stare un pelino Più tranquilli Che ci toglie Insomma L'ammarezza Della sconfitta Ma che non cambia le cose Perché Adesso Il Cagliari deve Pedalare Tanto Pedalare Tanto 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 E soprattutto Fare qualcosa A livello di mercato Perché In attacco Serve qualcosa In attacco Serve qualcosa In difesa Serve qualcosa Sulle fasce Serve qualcosa E a centrocampo Serve qualcosa Fare quattro acquisti Uno per reparto Non è semplice Perché non è semplice Ma si Deve provare a farlo Perché Ad oggi Abbiamo le prove Definitive Che Il mercato Fatto in estate È In gran parte Un flop Non che siano stati Tantissimi acquisti Quelli che abbiamo fatto Perché sostanzialmente Azidiaco Svietesca Sulemana Augerlo Ristanio Insomma Non sono tantissimi Pretagna Shumuro Sono Degli innesti Importanti Che però All'interno Della formazione Di trovare Quanti di questi calciatori Che abbiamo acquistato Sono effettivamente Di trovare Cioè noi stiamo giocando Praticamente Con la stessa Formazione O quasi Che ha militato In serie B Togliete Togliete Petagna Togliete Augello E praticamente Rimane quella Perché poi tutti gli altri Sono sostanzialmente Dei panchinari Ragazzi Cioè Con tutto il bene Anche Vabbè Oristanio Forse no Ma Il resto Sono praticamente Tutti quanti Panchinari Ad oggi Poi Magari un giorno Azidiaco Si sveglia Diventa il difensore Più forte del mondo E si prende le poste A titolare Improbabile Niente Speriamo bene Speriamo bene Io Non lo so Vi saluto Fatemi sapere Cosa ne pensate Forza Castelo sempre E ciao ciao Grazie a tutti